Rilanciare il piccolo villaggio del Monte Faito a Bichequense rendendolo attrattivo e frequentato tutto l'anno. Sarà questo il tema della nona edizione del premio Convivialità Urbana che negli anni è diventato un appuntamento atteso non solo dai progettisti, professionisti e studenti ma anche dalle amministrazioni che lo adoperano come una pratica di partecipazione civica per la riqualificazione di aree abbandonate o degradate. Il premio Convivialità Urbana ideato dall'Associazione Napoli Creativa presieduta dall'architetto Grazia Torre. Eccola ai nostri microfoni. I progetti che partecipano sono scelti da una commissione scientifica e dai cittadini quindi la particolarità proprio di questo premio è proprio questa, quella che i progetti che una volta arrivati vengono esposti in una mostra che quest'anno si terrà a Bichequense dal 9 all'11 giugno. In quell'occasione i cittadini stessi parleranno con i progettisti che sono presenti a fianco ai loro progetti, li spiegheranno al pubblico, quindi è proprio il bel momento bello, perciò si chiama Convivialità, è proprio questa interazione fra i progettisti e i cittadini ma anche gli amministratori che sono coinvolti. Presente tra gli altri il vice sindaco di Vicoequense, Benedetto Migliaccio. È un focus che abbiamo ritenuto necessario, abbiamo aderito con entusiasmo alla proposta di Grazia anche perché dobbiamo progettare il futuro e chi meglio per progettare il futuro degli architetti, soprattutto è l'entusiasmo che può generare una manifestazione, un premio come quello che oggi stiamo a presentare per dare veramente respiro internazionale a luoghi che questo respiro hanno già vissuto in passato. Dalla nascita fino ad oggi sono stati circa 500 i progetti candidati nelle otto precedenti edizioni del premio Convivialità Urbana, provenienti non solo dall'Italia ma anche dall'estero a riprova di quanto sia importante e forte il rapporto tra i territori della UE. Ai nostri microfoni il presidente dell'ordine, degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori di Napoli, Lorenzo Capobianco. Siamo alla nona edizione di questo premio Converità Urbana, a cui noi siamo affettivamente molto legati perché è nato con l'ordine e ogni anno, grazie alla presidentessa di Napoli Creativa, l'architetto Grazia Torre, è cresciuto con noi. Auspico una grande partecipazione e credo che sia un momento molto importante per garantire la qualità del pensiero del progetto rispetto al futuro delle nostre città.